Ciao a tutti ragazzi dal gommo, Andrea Giomaro Allora, sono qui in laboratorio Vedete tutta questa cosa dove lavoro io Ogni tanto aspetto tra un silicone e un altro Il silicone deve catalizzare dentro gli stampi E quindi a volte ho tempo di spizzicare dei video, dei trailer Guardare Facebook e cose così, insomma Ho visto parecchi film in questo periodo Ma non ho avuto tempo di recensirli Perché quando ho recensirli o comunque comunicarvi la mia opinione Lo sapete, a me non piace fare le recensioni Mi piace darvi qualche suggestione, qualche spunto di riflessione Casomai spero un po' diverso da quelli che si sentono più spesso Ma bisogna pensare Adesso in questi giorni ho la testa presa da un lavoro Appunto sto facendo un film che più avanti vi inviterò tutti ad andare a vedere Perché è un film molto particolare Anche quello darà modo di riflettere e di parlare Ma non vi anticipo niente Comunque è un film di vampiri girato a Napoli Quindi figatone Una roba strana Invece sono qui perché Perché ho visto il trailer di Altrimenti ci arrabbiamo Non è Buzz Spencer e Terence Hill Però è del trailer di un film del 2022 Non è Altrimenti ci arrabbiamo con Buzz Spencer e Terence Hill È un remake Un remake fatto in Italia di un film classicone Ma un classicone grosso Cioè io l'originale lo guardavo con mio padre Anzi lo guardavo con mio papà Era ancora quando non era mio padre come era mio papà E lo guardavo con mio papà sul divano E ci prendevamo un sacco di risate con questi qui Con i cazzottoni Faceva ridere Faceva ridere Erano altri anni Adesso ho provato a guardarlo con le mie figlie Per fare quella cosa che si fa tra papà e figlie Ovviamente non ha Ci ha fatto ridere Era bello Ma non ha suscitato le stesse reazioni Molto probabilmente Non ha creato neanche lo stesso tipo di ricordi Cioè Erano altri tempi Si erano viste altre cose Guardato oggi Quel film lì Anche se è godibilissimo Perché è incentrato sui personaggi Risulta datato Perché fare un remake Non potrà mai essere come quello No è vero Non potrà mai essere come quello Per diversi motivi Non per un motivo Prima di tutto Quello là era un film Con Bud Spencer e Terence Hill Anzi noi li chiamavamo I film di Bud Spencer e Terence Hill Perché il film lo facevano loro Dopo c'erano anche Registi che sapevamo fare Ma Il film erano loro Era tutto incentrato Sui loro personaggi Sulla loro figura E quindi era loro Che costruivano i generi Oggi non ci sono Bud Spencer e Terence Hill E quindi vuol dire Che il film è basato su Altro Deve necessariamente Essere basato su altro I registi Unaz Molti ci chiedono Ma chi sono sti Unaz Unaz Sono due registi Un collettivo Diciamo E vengono dal videoclip Dagli spot Quindi molto probabilmente Avranno una certa cura Credo Per l'allestimento La messa in scena La fotografia Di solito Chi viene da quel mondo lì Le cura Ste cose in verità Altrimenti ce l'abbiamo Originale Non aveva tutta sta gran cura Per la fotografia Anzi Anzi Paga parecchio lì Non ti dico che è cringe Ma quasi Allora Ho visto questo trailer Mi ha evocato La musichetta Sentire la musichetta Mi ha evocato Quei ricordi Quelle belle sensazioni Ma dopo ho visto Che ci sono persone Che hanno cominciato A esprimersi A riguardo a questo trailer A esprimersi O addirittura A recensire il trailer Io non lo so Vabbè Recensire i trailer Ogni tanto Anch'io mi lascio andare A qualche commento In base ai trailer Però Dire Assolutamente no Non toccate i classici Che cosa fa Che cacca Eresia Allora Eresia E' logico Non sarà mai come quello Non potrà essere Anche se fosse un bel film Non arriverà mai A essere quello E' proprio Un altro tipo di operazione Uno dice Ah senza dignità Senza idea Senza ma perché Non è così Cioè Ghostbusters legacy Ghostbusters legacy Che idea Che idea Era un omaggiare Quell'altro Tra l'altro C'è un piccolo difetto Perché il tono di Ghostbusters era tutto scherzoso Ma aveva fatto notare Mia figlia Ha detto Eh le scene in cui Si trasformano in cane In cui ci sono Sono molto simili Al primo film Ma sono umoristiche Che il tono del film Non è umoristico Quindi ghostbusters legacy Non era Non teneva il tono Di ghostbusters Era come ghostbusters Ma non teneva il tono Di ghostbusters E le scene Dove invece Ricalcava ghostbusters Quindi il tono Diventava un pochino Più da commedia Sembravano Non c'entra niente Sembrava Mia figlia Molto argutamente Ha detto Due film Che non c'entrano niente Uno dentro quell'altro E ci aveva ragione Quindi Queste operazioni Di andare a prendere Filmi iconici Degli anni 80 E rivitalizzarli Potete vestirle come vi pare Potete dare al figlio Dell'autore Potete dire Per portare avanti Il franchise Qui non c'è un franchise Da portare avanti Perché lì erano Bud Spencer e Terence Hill È impossibile sostituirli Era una roba bellissima Tra l'altro Uno dice Oh no I cazzottoni Adesso sono anacronistici Erano anacronistici Anche allora Era un'invenzione Era una roba loro Cioè noi abbiamo inventato I generi Quella roba lì Era Rivoluzionaria Cioè È logico Noi adesso Non ci andiamo A inventare niente Però sono curioso Di vedere Come rendono Sti cazzottoni Sulla testa Uno dice Ma sarà una roba seria Sarà una roba dignitosa Ma perché È seria La gente che Svolazza con i pantacollant E le mutande Sopra i pantacollant E spara i raggi dagli occhi E si danno le bastonate È dignitoso Fanno i miliardi Allora Qui Hanno fatto un film Andiamolo a vedere Oppure Non andiamolo a vedere Ma non gli scassate Già le scatole Dicendo Eresia Eresia Non c'è più fantasia I remake non c'è bisogno I classici Ma Batman L'altro giorno Proprio due settimane fa È uscito Il trailer di Batman Adesso è uscito In America L'anteprima Per i giornalisti Di Batman Il miglior cinecomic Di sempre Ma quanti ne hanno fatti Di Batman Di Batman Ne hanno dovuti fare Dieci Undici Per capire Come dovevano fare Il Batman Per fare Il miglior cinecomic Di sempre Undici ne hanno dovuti fare Allora Non scassiamo La minchia Batman Malporetto Lasciamolo uscire al cinema Valutiamolo Adesso uscirà Altrimenti ce l'abbiamo Sarà sì Un film Leggerino Sarà un film Usegetta Ok Va bene Ma che pretese Ma se non ce le ha le pretese Avrà solo la pretese Di intrattenere E facciamoci intrattenere Cioè Veramente Dai film Dipende Cosa vuoi te Dal film Quello lì Non credo che sia un film Che abbia la pretesa Di diventare memorabile Penso che sia un film Spero Fatto con Amore Per il classico Perché io lo amo E io andrò a vederlo Con quell'amore lì Ma non nella speranza Di rivedere il classico Io se voglio vedere il classico Vado a vedere Il classico Non c'ho bisogno Di che mi fanno il remake Per qualcuno invece Questa qui sarà un'occasione Per riscoprire anche il classico O addirittura Non per riscoprire Per scoprire Immaginate un bel cofanetto Altrimenti ci arrabbiamo Versione originale Versione remake Come dice Oh eresia Ma perché Il cofanetto di Ghostbusters Che poi tra l'altro Nel cofanetto di Ghostbusters Ci avevano messo Sia Ghostbusters Legacy Che Ghostbusters 1 E anche Ghostbusters delle donne Prima l'avevano escluso Perché la gente dice Eresia Quello lì non c'entra niente Ma perché Ma perché Non lasciate campare la gente Ma lasciate campare Va bene Ghostbusters con le donne Tra l'altro Non è dispiaciuto Non è dispiaciuto Capisci Non è E io Adoro Ghostbusters Ma lasciate vivere Lasciatevi intrattenere Se la gente va Al cinema E si fa due risate Che male c'è Che male c'è Basta Cagare il cazzo Alla gente Che vuole divertirsi Poi soprattutto In questi periodi Anzi Adesso io vorrei Lasciarvi Vi lascerò Forse Se riesco Un link Dico se riesco Perché in questo macello Qui è difficile Spicchiettare col telefono Ma Un link in discrezione All'ultima intervista Di Carlo Pedersoli Veniamo da un periodo Brutto Di pandemia Non si è andati Molto al cinema Almeno Non personalmente Ho guardato molto Su piattaforma Adesso La guerra In In Ucraina È Periodo Complicato Vorrei lasciarvi Con l'intervista Di che Carlo Pedersoli Rilasciò A fanpage Era la sua ultima intervista Faceva un po' Parlava della sua vita È un'intervista Molto godibile E vi invito a rivederla Soprattutto di questi giorni Che è uscito il trailer Per ricordarci Di che personaggio Assurdo Mitico Fosse Buono Gentile Divertente Simpatico E niente Fa una considerazione Sulla Sulla guerra La guerra fa schifo E quindi niente In questo giorno Dove Gli haters Si Si pronunciano Con anatemi Su questo film Vi vorrei lasciare Con le parole Di Carlo Pedersoli La guerra fa schifo E Niente Quindi Spero che ci sia Tanta solidarietà Nei confronti Di chi ha a che fare Con questa guerra A prescindere Dalla parte Perché la guerra Fa schifo E quindi niente Andiamo Andiamo al cinema Andiamo al cinema Adesso Adesso si può Dite incrociate Perché rimanga così E andiamo a vedere Questo film Italiano Ciao ragazzi Grazie a tutti